Il primo del 17 di luglio, Camilla ha festeggiato il suo compleanno, ma che giornata è stata per i reali? E soprattutto per lei è stato un compleanno un po' in sordina. Sì, è stato un compleanno in sordina, anche se era una tappa importante, perché era il primo compleanno da regina. Il primo compleanno da regina. Perché è stata incoronata anche Camilla il 6 maggio scorso all'abbazia di Westminster con re Carlo III. E direi che è stato un compleanno in sordina perché alla fine la cifra distintiva di questa nuova sovrana, che è stata anche poi la ricetta per farsi amare e accettare dai britannici dopo la tragedia della principessa Diana, è stata proprio questa di lavorare dietro alle quinte senza mai cercare i riflettori. E questo percorso direi che ha premiato perché Camilla è apprezzato. Ho parlato per il Corriere della Sera, quando era a Londra, per seguire l'incoronazione con Sir Richard Needham, un politico britannico di lungo corso che l'ha avuta nella sua circoscrizione elettorale. Mi diceva che è una donna molto brillante, molto dinamica, piena di personalità. Quindi credo anche che faccia un piccolo sforzo per restare un passo indietro rispetto a Carlo, ma sa che questa è la soluzione. Ha fatto un piccolo sforzo, è vero Marco? Ha fatto un piccolo sforzo durato decenni, perché diciamo che è stata giocoforza la sua cifra, e cioè dietro le quinte il basso profilo, perché lei c'è sempre stata nella vita di quello che adesso è diventato Re Carlo III in forme diverse, come sappiamo, prima era l'amica del cuore, poi è diventata l'amante cattiva, la strega che ha rovinato il matrimonio, anche se il matrimonio con Diana era partito male, perché era un matrimonio combinato per dare una giovane pulzella al futuro re, e poi però è stata accettata man mano da quando è tornato ufficialmente al fianco di Re Carlo, sostanzialmente dopo la morte di Diana ovviamente, ma con la consacrazione, tra virgolette, del matrimonio nel 2005. Poi da lì però c'è stato ancora un lungo processo, soltanto adesso è veramente regina, questo non vuol dire che sia particolarmente amata, quello che è sicuro è che è stata accettata perché tutti capiscono che ha un ruolo importante nella vita privata e quindi anche pubblica del sovrano. È stata accettata, sì. Marco, scusa, ma tutto quello che arriva a noi in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, che riguarda la Casa Reale, è tutto vero o ci sono anche delle deviazioni nel momento che le notizie partono dall'Inghilteria e arrivano in Europa e in Italia? Guarda, come sappiamo è una grande telenovela, giustamente dicevate, adesso siamo tre mesi dall'incoronazione, continuiamo a parlarne, ma andremo avanti nei secoli perché è una grande telenovela appunto di una famiglia che è una famiglia anche abbastanza disfunzionale, come si dice adesso, con tutti i problemi delle famiglie allargate per di più, ma è anche un'istituzione. Quindi mettete insieme le due cose per rispondere alla tua domanda. Il lato gossip è veramente terreno di tutti, cioè chiunque può dire quello che pensa, sussurra, sente magari nei corridoi e non ci sono né smentite né conferme. Il terreno classico adesso sono Harry e Meghan, tra l'altro sono un po' spariti, ma tutti adesso dicono che si separano. Evidenze non ce ne sono, ma questo alimenta i rotocalchi e anche le trasmissioni televisive di tutto il mondo. Michele, ma perché la Royal Family interessa così tanto ai nostri telespettatori? Perché è l'eterna fiaba, è la fiaba, per molto meno un politico italiano verrebbe cacciato via, per molto meno un politico francese finirebbe sull'astrico. Lì invece sono mille anni che la monarchia inglese ha attivato la fantasia di grandi scrittori, Shakespeare in premise, che hanno parlato anche dei loro terribili errori e dei loro difetti. Riccardo Teso non era un gentiluomo, però ancora si parla di lui quando si apre il sipario e senti dire adesso l'inverno del nostro scontento è diventato estate. Quanti inverni diventano estate nella credulità quasi planetaria che ha avuto la monarchia inglese, perché hanno avuto un impero enorme e sono stati re di questi. È talmente lungo il biglietto da visita dei monarchi inglesi che non c'entrava in un cartoncino. Per cui chiaramente è la favola collettiva degli inglesi che hanno addirittura dovuto fare la guerra alla Germania per ben due volte, dove è nata il casato che ancora governa l'Inghilterra. Quindi questa duttilità di impiego, faccio per dire, è il segreto forse di un'istituzione a cui noi abbiamo dovuto rinunciare. Allora, parliamo di un sondaggio, un recente sondaggio di gradimento sulla Royal Family. Al primo posto trova William seguito da Kate al secondo. La principessa Anna è ben posizionata e precede Carlo III. Per Camilla bisogna ancora scendere, perché questo significa che il veleno che Harry ha sparso con la sua autobiografia Spare non ha scalfito l'opinione positiva degli inglesi nei loro confronti. C'è un aneddoto che vorrei richiamare la vostra attenzione. Quando stavano per sposarsi William e Kate hanno scoperto, ricamando il corredo, che gli iniziali non erano proprio, come dire, eleganti, WC, e quindi trovarono il modo per risolvere la questione in maniera del tutto English. E io ancora sorrido di questo, perché sono bravissimi gli inglesi. In questa istituzione la possono governare, in realtà è governata dall'opinione pubblica, diciamola tutta, perché i loro comportamenti sono naturalmente rispettosi dell'onda di opinione, del buon gusto, del cattivo gusto e soprattutto della credibilità della corona. Pensa alla storia di Elisabetta d'Inghilterra. Ormai basta dire così. Questa grandissima rappresentante della monarchia inglese è passata dal fare il soldato nella Seconda Guerra Mondiale a diventare quella che ha pacificato l'Inghilterra. No, la casa di Windsor. Eh sì, è così. Ma in tutto questo Lady Diana c'è ancora, c'è ancora, sovrintende Lady Diana. Ha oscurato un po' l'attuale moglie di Carlo III. Ma come scrive anche nella biografia di Carlo... Che è questa, Carlo III, il cuore e il dovere del re. Chiaramente il fantasma di Diana è un fantasma che rimane. Giustifica anche quei dati di sondaggio che dicono che oggi in prima posizione c'è il principe William. Non a caso perché è il figlio di Diana, è il nipote della regina Elisabetta, e quindi unisce nel pensiero dei britannici questi due straordinari personaggi. Camilla non sarà mai probabilmente amata quanto Diana, ma apprezzata. Ho parlato con Michael Waldman, il regista che ha filmato Camilla. Dietro alle quinte è l'unica persona che ha avuto questo privilegio per mesi. Mi diceva appunto che è una persona alla fine semplicissima, con tutti i problemi di una persona che ha 76 anni, è anche consapevole della difficoltà che ha dovuto attraversare in tutti questi anni. Infatti davanti a una rosa che portava il suo nome gli ha detto Beh, questa rosa insomma mi piace molto perché cresce in terreno impervio, anche nella difficoltà, quasi ricordando il suo percorso. Quindi la famiglia reale britannica alla fine è il condensato di tutti i sentiment che attraversano il paese. La nostalgia per Diana, la nostalgia per Elisabetta, e anche quella principessa Anna in buona posizione perché è sempre stata una grande lavoratrice, la principessa Anna, un po' come il principe Filippo. Marco, questa classifica la condivide o chi metterebbe al primo posto? Io personalmente? Sì. Beh, io ribalterei un po'. Allora, nella classifica bassa, oltre a Camilla, ci sono sicuramente Harry e Meghan poco amati, poco graditi da queste parti, se ne sono andate sbattendo la porta, lo sappiamo, e soprattutto il principe Andrea che ha avuto la brutta storia di abusi sessuali e ne è uscito pagando sostanzialmente chi lo accusava. Bene, in questa classifica forse io metterei in testa proprio Camilla per la costanza e alla fine per l'amore, perché la storia d'amore vera è quella sua con Carlo. Chi metterebbe lei? Dobbiamo salutare, ma proprio al volo, Enrico. Beh, in questa classifica credo che Re Carlo, alla fine, nonostante abbia ereditato il regno da una sovrana amatissima, un'icona mondiale, planetaria, l'unica sovrana che era arrivata a tagliare il traguardo e il giubileo di platino, sin qui non ha commesso un passo falso, va detto. È stato bravo nel raccogliere questa impegnativa eredità, ha dato il suo sostegno a tante operazioni importanti, non dimentichiamo il Windsor Agreement per la trattativa per rinegoziare gli accordi con l'Irlanda del Nord post-Brexit e molto altro, si è schierato subito sul fronte della guerra in Ucraina dando tutto il suo sostegno. Insomma, ha avuto atti molto coraggiosi e ha saputo farsi apprezzare, ovviamente, per tutta la sua attenzione per l'ambiente e la sostenibilità. Ha accolto Joe Biden, che non era venuto all'incoronazione, quindi direi che questo inizio di monarchia per Re Carlo III è un buon inizio. È un buon inizio. Michele, velocemente. A me è simpaticissimo il Re, Carlo III, mi piace. Mi è sempre piaciuto, da quando, siamo quasi coetanei, diciamo così, ho scrutato la sua pazienza per aspettare il grande momento giusto che ha affrontato con una naturalezza umana, avendo una fidanzata che amava ed ama teneramente. Poteva fare almeno di sposare Diana. Come la regina Vittoria ha imposto agli inglesi un principe consorte tedesco. Poteva fare almeno di sposare Diana. Avrebbe fatto una donna non infelice. Io ho capito, ma ha detto benissimo... Adesso dovremmo aprire un altro capitolo, ma vi rivolgiamo qui per continuare a parlare della Royal Family. Magari anche Camilla venire, quella è capace. Ho un piccolo collegamento, dai. Quella è capace. Grazie anche a Vervelo, grazie per essere stato con noi. Adesso dobbiamo parlare di Agopuntura. Come dicono quelli che parlano bene in televisione, voltiamo.